Brutta sconfitta per l'Italia di pallavolo nella prima gara della Final Six dei mondiali. Gli azzurri sono asfaltati dalla Serbia col punteggio di 3-0. Al Palalpitour di Torino non c'è storia, con i locali mai in partita superati con i parziali di 25-15, 25-20 e 25-18. Venerdì alle 21.15 è già tempo di dentro o fuori e ci si gioca una qualificazione sul filo del rasoio contro la Polonia. Per la nazionale di Blengini, infatti, potrebbe fin anche non bastare un successo per 3-0 o 3-1 contro i polacchi, campioni del mondo in carica, per passare il turno. Dato che ogni set vinto frutta un punto, la Polonia dovrebbe però perdere anche contro la Serbia con 3 set di scarto, in modo da non guadagnare nemmeno un punto e consentire all'Italia l'eventuale passaggio come seconda classificata in caso di successo nello scontro diretto.